Buongiorno a tutti, oggi vi farò vedere un antifurto del ciao fatto con l'arduino Quando il ciao è immobile, l'antifurto non scatta Appena che i sensori del ciao avvertono un movimento, il ciao fa 4 bip e poi inizia la sirena Questi 4 bip sono stati messi in modo che se devi scollegare l'antifurto non ti suona appena lo tocchi Questo è il circuito dell'antifurto montato dentro il faro La pila è da 9 volt e in questo caso la sto dando per provarlo Quando si avverte un movimento, con i sensori e mercurio, il led rimane acceso per 2 secondi Questa è la parte interna del faro Qui a sinistra vedete tutti i componenti Qui a sinistra vedete tutti i componenti Qua siamo alla seconda parte del progetto Formata da un regolatore di carica e due batterie a litio in parallelo Qui è montato sulla base Tutta la base è rivestita di materiale isolante Questo è il ciao senza coperchio Questa scatolina è stata fatta con la CNC Qui l'antifurto è attivo perché il ledio sta lampeggiando Qui l'antifurto è attivo perché il ledio sta lampeggiando Qua c'è la scatolina finita Anche il tappo è stato fatto con la CNC Anche il tappo è stato fatto con la CNC Qui come vedete dopo i 4 beep l'antifurto suona Qua c'è la scatolina finita Qua c'è la scatolina finita